Ciao a tutti amici, sono Emiliano Cantiano. Vi aspetto il 30 novembre a Batterica. Apro il piacere di esibirmi in una live performance con la mia prog band strumentale Numeno. Eseguiremo alcuni brani tratti dal nostro secondo album, Escape. Ringrazio di cuore la direzione artistica di Batterica per avermi coinvolto a partecipare a questa splendida manifestazione, che è una splendida manifestazione. Ciao a tutti ragazzi!